Eccoci, ciao Sara, come va? Ciao Enrico, tutto bene? Grazie per avermi ospitato. Sara abbiamo questo momento spoiler, quindi meet up tema Kill Bill su una povera vittima che è designata, che è l'aggregato. Siamo ovviamente nel mondo del domain driven design. Qualche settimana ne abbiamo già parlato con Marius Gill, in una chiave diversa naturalmente. Oggi invece Sara ci propone una nuova lettura su questo argomento, comunque una delle domande che sentiamo più spesso all'inizio, alla fine dei corsi, durante meet up, ma quest'aggregato alla fine cos'è, di cosa si tratta, eccetera, eccetera. Oggi con Sara avremo appunto un punto di vista diverso sulla questione. Vi ricordo che potete fare le domande sulla chat YouTube qui sotto. Il talk sarà in italiano, come già annunciato, ma sarà grazie anche a una squadra di aiutanti che non vedremo, ma che sappiamo essere lì e ringraziamo. Farà sì che il talk possa essere seguito anche per chi non parla italiano, quindi avremo le caption sotto al talk in inglese, un esperimento anche per noi e vediamo un po' come va. Quindi, domande ve le ho dette, caption in inglese ce le abbiamo, Sara che dire? Iniziamo. Palla a te, vamos! Perfetto, intanto ciao a tutti, grazie per essere qua questa sera, grazie ancora Enrico e avevano scoperto ovviamente per avermi ospitato. Mi chiamo Sara Pellegrini, nella vita sono un ingegnere del software, ma oggi sono qua con una veste diversa e con un obiettivo ben preciso. Sono qua per uccidere l'aggregato. Ma andiamo con ordine, per chi non lo conoscesse, lasciate che ve lo presenti. Eccolo, è lui l'aggregato. L'aggregato ha sempre rappresentato per me uno degli elementi più controversi e deboli del domain driven design. La sua definizione risulta, a mio parere, abbastanza vaga. L'aggregato è un cluster di oggetti associati che devono essere trattati come una sola unità al fine di modificare i dati. Ecco, mi piacerebbe fare subito un sondaggio. È possibile chiedere a coloro che ci stanno guardando in chat qual è il loro livello di comprensione di questo concetto. Vorrei sapere chi trova questa definizione semplice da comprendere e il concetto di aggregato cristallino. Chi invece trova la definizione un po' fumosa e non ha compreso fino in fondo cosa esso sia. O magari anche chi oggi, dopo anni di esperienza, sa esattamente di che cosa si tratta, ma si rende conto di aver avuto bisogno di diverso tempo per interiorizzare questo concetto. Ecco, nel frattempo potete dare le vostre risposte qua in chat. Io vi posso dire che durante la mia attività di consulenza ho potuto verificare che la piena comprensione del concetto di aggregato rimane ostica per molti. È facile commettere errori in fase di modellazione, ai quali sarà complesso porre il rimedio successivamente in fasi più avanzate dello sviluppo. E come conseguenza una certa percentuale di sviluppatori si convince che l'intera architettura sia eccessivamente complicata e difficile. Per cui proviamo a fare un po' di chiarezza. Torniamo all'origine. Ecco che cosa consiglia il Blue Book per passare dalla teoria alla pratica. Suddividi entità e value object in raggruppamenti chiamati aggregati, definisci un confine intorno ad essi, individua l'entità radice di un aggregato e fa in modo che sia possibile accedere agli oggetti interni dell'aggregato solamente attraverso la sua entità radice. Queste regole pratiche ci aiutano davvero a crearci un nostro proprio istinto nell'individuazione degli aggregati del nostro dominio? Ecco, io personalmente non ne sono convinta. Vorrei affrontare insieme a voi un esempio pratico per comprendere meglio le insidie che l'aggregato nasconde. E ho individuato cinque principali brutture dell'aggregato che ho abbinato ad altrettanti cattivi del film di Kill Bill. Perché il mio obiettivo è farli fuori tutti insieme con l'aggregato. Per cui iniziamo. Per comprendere al meglio le criticità dell'aggregato vorrei simulare un semplice esercizio di modellazione tramite la tecnica dell'event storming. Il dominio di business che voglio analizzare è quello dell'istruzione. Le regole di business sono estremamente semplici. Dunque, ogni corso non può accettare più di un certo numero di studenti. Il numero massimo di studenti che ogni corso può accettare viene definito capacity del corso. La capacity del corso può essere modificata con un qualsiasi valore differente da quello corrente. A prescindere dal fatto che il nuovo valore possa risultare inferiore al numero attuale degli studenti iscritti. In questo caso il corso non sarà in grado di accettare alcuna nuova iscrizione fino al momento in cui non saranno avvenute un numero di disiscrizioni sufficienti per far sì che il numero di iscritti torni ad essere inferiore della capacity. Per prima cosa individuiamo gli eventi. Dopo che il corso è stato creato normalmente potrà accadere che uno studente si iscriva al corso oppure che si disiscriva. Di tanto in tanto sappiamo che la capacity del corso può essere aggiornata. Passiamo ora ad analizzare la causa scatenante di questi accadimenti. Nel nostro esempio è facile immaginare che tutti questi eventi vengano emessi in seguito alla gestione del rispettivo comando inviato dall'utente. Per cui fino a qua nulla di complicato. Il processo è lineare, naturale, semplice. Uno degli elementi più potenti del domain driven design è quello di aver abbattuto o quantomeno tentato di abbattere le barriere fra i tecnici e gli esperti di dominio. Sono nati potenti strumenti di esplorazione del dominio primo fra tutti appunto l'even storming in grado di sfruttare l'immenso potenziale dello storytelling. E lo storytelling è una tecnica estremamente efficace proprio perché è innata nella natura umana. Non devi avere particolari capacità o esperienze per accedervi e ci aiuta ad abbattere la barriera comunicativa fra tecnici ed esperti di dominio. Nella mia esperienza la fluidità del processo di discovery del dominio è impressionante in questa prima fase ma ha una battuta d'arresto quando tentiamo di introdurre in questa narrativa il concetto di aggregato. Infatti per definizione l'aggregato rappresenta la risoluzione di un aspetto tecnico. L'aggregato rappresenta i confini della consistenza forte è il guardiano degli invarianti è il componente responsabile di garantire il rispetto di vincoli di consistenza forti all'interno di un ecosistema per sua natura eventualmente consistente ma al contempo vuole rappresentare il concetto di business che agisce da garante di un insieme di regole di business. A causa di questa natura dicotomica dell'aggregato è estremamente complesso spiegare agli esperti di business cosa esso rappresenti realmente e ovviamente dobbiamo ben guardarci dal fornire agli esperti di business una spiegazione tecnica dell'aggregato. Non possiamo certo parlargli di boundary di consistenza né di invarianti o di transazionalità. Però vi confido che il mio primo pensiero quando cerco di individuare quali siano gli aggregati è proprio diretto a raggruppare tutti quei dati che devono godere di garanzie di consistenza forti interconnessi fra loro. E in questo esempio le regole erano relative al corso. Il corso non può accettare un numero di studenti superiore alla propria capacity. Ed è questo, il razionale, che in questo esempio spinge me a utilizzare il corso come aggregato. Per cui tradurre questa idea in termini non tecnici per spiegarla agli esperti di business non è banale. Possiamo avvalerci di metafore ponendo domande del tipo chi mi garantisce che questa regola non venga violata? In quale scatolone metteresti queste informazioni? A chi indirezzeresti questo comando? Sono tutti stratagemmi che possono funzionare ma non sempre risultano completamente efficaci. Ecco dunque individuato il primo cattivo della nostra storia. L'aggregato non è naturalmente parte dello storytelling. L'introduzione dell'aggregato nello storytelling rompe la fluidità del processo di discovery. È un elemento che non emerge naturalmente dal racconto ma che noi tecnici tentiamo di introdurre forzatamente per soddisfare le nostre necessità. L'aggregato nasce per rispondere a una esigenza tecnica e gli esperti di dominio non dovrebbero assolutamente preoccuparsi di comprendere gli aspetti tecnici della nostra architettura eppure talvolta sono chiamati a identificare proprio questi elementi che sono tecnici per definizione. Inoltre l'aggregato riporta la nostra attenzione al modello distogliendola dal comportamento. Per cui lasciate che vi presenti subito il cattivo numero due della nostra storia l'aggregato mescola aspetti tecnici e aspetti di business. Per qualche motivo consapevolmente o meno cerchiamo di far convergere nell'aggregato due modelli differenti. Il modello necessario garantire una determinata transazionalità insieme alla nostra rappresentazione mentale del dominio quella fatta dagli esperti di dominio. e nonostante questo possa essere più che comprensibile dovuto alla naturale inclinazione della mente umana il fatto è che spesso questi due modelli non coincidono non sempre almeno coincidono non sempre i vincoli di consistenza forti li siano tutti all'interno dello stesso concetto di business e può capitare che esistano vincoli di consistenza anche nella zona intermedia tra due o più concetti di business. Per alcuni questa differenza è cristallina e infatti sono rimasta molto positivamente impressionata dalla tecnica utilizzata dal mio amico Mauro Servienti per modellare gli aggregati lui procede con un approccio al contrario ovvero prima raggruppando i dati che condividono i vincoli di consistenza mettendo insieme le informazioni che cambiano insieme o il cui cambiamento è dipendente e solo successivamente dopo che i raggruppamenti sono stati identificati tenta di assegnare ad essi un nome di senso questo approccio però non viene utilizzato da tutti sempre anzi al contrario troppo spesso ho visto ridurre l'esercizio di modellazione degli aggregati alla ricerca dei nomi delle entità del nostro dominio e superare questo approccio naif fino ad acquisire la comprensione profonda dell'essenza dell'aggregato spesso richiede un tempo e un'esperienza significativi per cui nonostante alcune difficoltà iniziali diciamo che siamo riusciti a individuare il nostro primo aggregato in questo esercizio l'aggregato corso il corso sarà in grado di gestire alcuni tipi di comandi e di pubblicare alcuni tipi di eventi qualora scegliessimo di utilizzare un modello basato su entità e value object potremmo rappresentare l'aggregato corso in questo modo vorrei farvi notare molto velocemente un aspetto dell'aggregato corso ogni qualvolta che l'aggregato deve gestire un comando di iscrizione oppure di disiscrizione dello studente di uno studente a un corso allora esso si avvale di tutto il proprio stato al fine di prendere le relative decisioni ma quando invece deve gestire un comando di aggiornamento della propria capacity in realtà qua si avvale solo di parte dello stato dell'aggregato infatti in questo caso l'invariante da verificare riguarda unicamente il valore attuale della capacity non esiste nessun vincolo rispetto al numero di iscrizioni dunque una parte dell'aggregato quella relativa alle subscriptions risulta inutile ai fini della gestione di questo comando ciò non di meno l'aggregato deve essere sempre considerato come una singola unità un ragionamento analogo vale nel caso in cui decidessimo di ricostruire l'aggregato attraverso l'event sourcing questi sono tutti i tipi di eventi che fanno parte dell'aggregato corso per la gestione dei comandi di iscrizione e di disiscrizione dello studente al corso tutti gli eventi sono importanti al contrario per gestire l'aggiornamento della capacity potenzialmente potremo ignorare tranquillamente tutti gli eventi relativi alle subscriptions tenete a mente questa considerazione perché ci sarà utile successivamente torniamo al nostro esercizio di modellazione andando ad aggiungere un nuovo elemento alle nostre regole di business il nome del corso può cambiare a patto che il nuovo titolo sia diverso dal precedente questo significherà avere un nuovo evento che mi rappresenta il fatto che il corso è stato rinominato insieme ovviamente al rispettivo comando semplice quando chiederemo agli esperti di business a chi deve venire inviato questo comando beh facilmente otterremo la risposta più ovvia al corso il nostro aggregato corso si allarga in questo modo diventa responsabile per qualcosina in più di prima e può sembrare irrilevante ma attenzione perché c'è un pericolo in agguato lasciate che vi presenti il terzo cattivo della nostra storia più l'aggregato si allarga più c'è possibilità di contesa la nostra naturale predisposizione a battezzare come aggregati i concetti di business che fanno parte del nostro modello mentale può portare a un allargamento talvolta non necessario dei confini dell'aggregato ogni volta che individuo un nuovo evento che afferisce a un determinato concetto mentale tendo ad assegnarlo al rispettivo aggregato ma è fondamentale tener a mente che i confini della consistenza garantiti dall'aggregato rappresentano di fatto anche i confini della mia concorrenza e per questo motivo il corretto dimensionamento dell'aggregato può influire significativamente sulle performance applicative se per assurdo decidessimo di modellare il nostro sistema come un unico singolo grande aggregato questo impedirebbe ogni forma di accesso concorrente tutte le operazioni dovrebbero essere eseguite sequenzialmente perché imputabili a un unico aggregato che agirebbe da Contention Point immaginiamo che il sistema si trovi a gestire in maniera concorrente due comandi relativi allo stesso corso il primo richiede che venga aggiornata la capacity del corso e il secondo richiede che il corso venga rinominato il nostro istinto ci dice subito che queste due operazioni non entreranno in conflitto la prima non influenza l'esito della seconda e nemmeno viceversa entrambi i comandi vengono gestiti allo stesso tempo ovvero vengono ricostruite di fatto due repliche della stessa istanza dell'aggregato ognuna di queste repliche viene poi aggiornata in base al comando che se gestisce il problema si pone nel momento in cui si tenta di persistere la transazione poiché l'aggregato costituisce appunto la garanzia della consistenza degli invarianti interni allo Stato non è mai possibile accettare due modifiche concorrenti mentre la prima delle due transazioni sarà accettata la seconda sarà necessariamente rifiutata non ha alcuna importanza il fatto che all'interno dell'aggregato possano esistere dei sottoraggruppamenti di dati completamente indipendenti tra loro in termini di invarianti non importa che il cambiamento del titolo del corso non andrà mai a influenzare la modifica della sua capacity così quanto il contrario è sufficiente il fatto che due comandi siano gestiti dalla stessa istanza dell'aggregato per impedire che questi possano essere eseguiti contemporaneamente per questo motivo la decisione di assegnare entrambi questi comandi al medesimo aggregato causa un aumento della contention che non sarebbe necessario in quanto sappiamo che le informazioni che essi vanno a modificare non hanno nessuna implicazione reciproca ma ciò nonostante essi devono comunque essere gestiti in maniera sequenziale solo in virtù del fatto che fanno parte dello stesso aggregato quale alternativa abbiamo potremmo optare per una soluzione alternativa che non preveda un unico aggregato corso ma due aggregati diversi course subscription responsabile della consistenza delle iscrizioni con la capacity e course info che è responsabile della consistenza delle altre informazioni relative al corso dei dettagli del corso ognuna delle due alternative ha vantaggi e svantaggi da una parte avere un solo aggregato ovviamente rappresenta la soluzione più semplice se bene comporti una maggior contention e dall'altra avere due aggregati più piccoli invece di uno solo garantisce di ridurrsi la contention abilitando un livello di concorrenza maggiore ma al costo di una maggiore complessità derivante dalla necessità di avere più aggregati come sempre si tratta di individuare quale sia il compromesso migliore a seconda del caso d'uso che si sta implementando cosa accade se siamo partiti con il corso per poi renderci conto solo successivamente che avremmo dovuto implementare il course info e il course subscriptions ovvero cosa succede in tutti i casi in cui ci rendiamo conto solo in uno stadio avanzato che abbiamo sbagliato a modellare l'aggregato ovviamente dipende nel caso in cui abbiamo optato per persistere lo stato corrente del nostro aggregato beh allora possiamo implementare degli script di migrazioni per trasformarlo ma qualora avessimo optato per persistere gli eventi al posto dello stato corrente beh in questo caso le cose si complicano un pochino questa è la rappresentazione di un event store all'interno del quale sono evidenziati gli eventi appartenenti a una specifica istanza dell'aggregato corso se decidessimo di rifattorizzare questo aggregato sostituendolo con gli aggregati course subscription e course info dovremo necessariamente riscrivere l'event store sostituiamo l'evento di creazione del corso con due eventi per la creazione rispettivamente dei due nuovi aggregati course subscription e course info il colore qui rappresenta la nuova istanza di appartenenza gli altri eventi che appartenevano all'aggregato corso saranno sostituiti da eventi analogi appartenenti o all'aggregato course info oppure all'aggregato course subscription e chi di voi ha esperienza con l'event source sa meglio di me che questo genere di operazioni possono risultare molto complesse e molto costose per cui ecco il quarto cattivo della nostra storia gli aggregati in particolare quelli event source sono difficili da rifattorizzare la definizione di aggregato non è facile da interiorizzare talvolta sono necessari anni prima di sviluppare un proprio istinto nell'individuazione dei confini corretti per i nostri aggregati di conseguenza non è raro specialmente se ci si approccia le prime volte a questa architettura poter fare degli errori di modellazione degli aggregati ma è anche possibile che i requisiti cambino nel tempo e che gli aggregati che avevamo modellati inizialmente non soddisfino più le nostre necessità qualsiasi sia il motivo risolvere un problema di errata modellazione in uno stadio avanzato dello sviluppo può avere un costo molto alto in particolar modo adottando l'event sourcing andiamo proprio a creare un vincolo di appartenenza tra l'evento di dominio e il suo aggregato ogni evento di dominio fa parte di uno e un solo aggregato e decidere di rifattorizzare un aggregato in una fase avanzata dello sviluppo può richiedere appunto la riscrittura parziale o completa dell'event store coloro che hanno esperienze in merito sanno benissimo che non si tratta di un'operazione facile e capita anche che per evitare di affrontare una riscrittura dell'event store talvolta si preferisca abbandonare il refactoring accettando di convivere con una scelta sbagliata effettuata inizialmente aggiungiamo ancora un po' di paper al nostro esempio con l'introduzione di una nuova regola lo studente non può iscriversi a più di dieci corsi ovviamente avrò la necessità di introdurre un nuovo evento per la creazione dello studente con il suo rispettivo comando e fin qua tutto semplice ma poi le cose si complicano perché ho bisogno di introdurre due nuovi eventi che rappresentano l'iscrizione e la disiscrizione dello studente al corso entrambi scatenati dai rispettivi comandi non avete anche voi un senso di déjà vu scusate ho sbagliato film sì perché due eventi e due comandi molto simili li abbiamo già incontrati quando parlavamo del corso ora però me ne servono altri due perché la nuova regola che devo essere in grado di garantire è relativa a un nuovo aggregato l'aggregato studente in questo caso questa strategia può apparire estremamente artificiale come mai ho bisogno di due eventi distinti che però mi rappresentano il medesimo evento nella vita reale purtroppo perché la vita è dura e l'esistenza di due aggregati distinti che contengono invarianti dipendenti dal medesimo fatto mi obbliga a optare per un'opzione di questo tipo per una soluzione di questo tipo ecco qua il nostro nuovo aggregato studente in grado di ricevere alcuni comandi e di emettere alcuni eventi allo stesso modo del corso anche l'aggregato studente conterrà le sottoscrizioni necessarie per prendere decisioni relative alle nuove richieste di iscrizione o di disiscrizione questa situazione ci obbliga a introdurre una qualche forma di sincronizzazione la richiesta di iscrizione di uno studente a un corso sarà processata da un componente in grado di consegnare i rispettivi comandi sia allo studente che al corso lo studente e il corso dopo aver effettuato gli opportuni controlli procederanno a pubblicare i rispettivi eventi tutto molto semplice fino a quando non dovesse succedere che uno dei due aggregati per esempio il corso decidesse di non accettare l'iscrizione poiché per esempio già al completo in questo caso il componente che orchestra questa operazione deve reagire di conseguenza andando ad inviare un secondo comando allo studente per richiedere l'annullamento della precedente iscrizione ecco a voi il quinto e ultimo cattivo della nostra storia le transazioni che coinvolgono più di un aggregato possono comportare una complessità eccessiva il principale aspetto alla base dell'idea dell'aggregato è il concetto di limite di confine il limite della consistenza il confine della complessità e uno degli intenti alla base dell'introduzione dell'aggregato è proprio quello di contenere la complessità definendo delle bolle isolate le une dalle altre che siano le più piccole possibili in modo da permettere di avere un contesto semplice minimale sul quale poter ragionare e prendere decisioni è un concetto che trova le sue radici anche nei principi di buona programmazione che predicano il disaccopiamento e l'alta coesione nonostante le migliori intenzioni questo però implica che ogni volta che abbiamo necessità di garantire un vincolo di consistenza che valica i limiti del nostro aggregato ci troviamo a dover creare questi convoluti meccanismi di sincronizzazione delle varie istanze come quello che abbiamo visto in questo esempio ora voi mi potreste rispondere ma in fondo non è nient'altro che una long transaction certamente è un meccanismo di comunicazione assolutamente naturale quando valica i confini del bounded context ma mi domando quanto sia effettivamente necessario introdurre tale complessità quando la long transaction avviene all'interno del medesimo bounded context è possibile evitare questa complessità quando ci troviamo dentro il medesimo bounded context dunque eccoli qua tutti gli elementi negativi dell'aggregato l'aggregato non fa naturalmente parte dello storytelling sposta l'attenzione sul modello invece che sul comportamento mescola aspetti puramente tecnici con aspetti di business può causare una contention non strettamente necessaria può causare una complessità non strettamente necessaria ed è difficile da rifattorizzare dunque non ci resta che farlo fuori dunque possiamo vivere senza aggregati ed essere felici io penso di sì modellare correttamente gli aggregati è difficile e questo è stato il driver principale che mi ha portato a cercare una strategia per non dovermi legare a un modello così vincolante e per identificare una soluzione più flessibile al problema della consistenza per cui il segreto dal mio punto di vista è concentrarsi sul comportamento e non sul modello vogliamo tornare alla fluidità alla naturalezza e alla bellezza dello storytelling e a questo scopo immaginiamo di semplificare al massimo il sistema fino a ridurlo a nient'altro che una serie di azioni e reazioni il nesso di causalità tra di esse è rappresentato da una decisione che è presa sulla base di una o più regole di business è proprio questo l'elemento atomico di cui abbiamo bisogno il mattoncino che collega un determinato trigger alle sue conseguenze con una metafora un po' azzardata potremmo paragonare questa catena di azioni e reazioni ad una sorta di partita di ping pong tra una persona e il sistema software da una parte l'essere umano fa una determinata scelta poiché è stimolato da un determinato accadimento l'essere umano è in grado di prendere una decisione in merito allo stimolo ricevuto ed è responsabile di recuperare tutti i dati necessari nello specifico contesto per permettergli di prendere una decisione consapevole e informata in maniera del tutto speculare il nostro sistema software deve essere in grado di reagire a uno stimolo e di recuperare in autonomia tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione in merito allo stimolo ricevuto proprio come l'essere umano è in grado di identificare le informazioni di cui necessita per prendere la decisione corretta allo stesso modo il blocchetto logico il blocchetto decisionale è in grado di recuperare le informazioni di contesto necessarie per fare le proprie valutazioni il focus qui è incentrato sul comportamento non sul modello il blocco decisionale esiste in virtù del fatto che il nostro sistema deve essere in grado di reagire a un certo stimolo e il comportamento che determina la necessità di avere quel blocco decisionale il focus è sul componente software in grado di prendere una decisione come conseguenza a un determinato stimolo si potrebbe trattare di un comando e allora parleremo di command handler ma anche di un evento e allora parleremo di event handler più in generale possiamo parlare di message handler ai fini della mia tesi la natura dello stimolo è totalmente ininfluente quello che invece è fondamentale è che il blocco decisionale deve essere in grado di poter caricare il modello necessario per eseguire il proprio lavoro per valutare i propri invarianti e decidere di conseguenza quali azioni intraprendere ecco che qui ci viene in aiuto l'event sourcing che ci garantisce una flessibilità eccezionale disaccoppiando la persistenza dei dati dal modello che dovrò poter ricostruire per fare le mie scelte tramite l'event sourcing sono potenzialmente in grado di costruire ogni modello necessario al volo a partire da uno stream di eventi selezionati sulla base di una query arbitraria facciamo un esempio pratico per comprendere meglio immaginiamo di dover gestire il comando di aggiornamento della capacity del corso utilizzando il classico approccio ad aggregati per gestire questo comando bisogna di recuperare l'aggregato corso posso ricostruirlo partendo dallo stream dei suoi eventi ma se utilizziamo un nuovo approccio in cui il command handler è responsabile di recuperare il modello necessario per operare la scelta ci rendiamo subito conto che non tutti gli eventi che fanno parte dell'aggregato corso contengono le informazioni utili al nostro scopo ad esempio il fatto che il corso sia stato rinominato non è un'informazione interessante per gestire la richiesta di aggiornamento della capacity il command handler in questione potrebbe recuperare unicamente gli eventi che gli interessano ovvero l'evento di creazione in quanto è necessario verificare che il corso esista e l'aggiornamento della capacity poiché la nuova capacity deve essere diversa dalla precedente ignorando completamente l'evento relativo al cambio del titolo del corso con solo queste informazioni il command handler può decidere di pubblicare o meno il nuovo evento di modifica della capacity ecco qui la prima novità che vorrei proporre quando parliamo di lettura degli eventi un event store non dovrebbe essere soltanto in grado di fornire lo stream degli eventi per singolo aggregato ma lo stream di eventi per una query arbitraria questo si traduce in termini di API nel sostituire lo stream di eventi basato su un aggregate identifier con lo stream di eventi basato su una query la query è composta da due elementi fondamentali il primo è costituito da una collection di domain identifier il domain identifier come dice il nome stesso rappresenta l'identificativo di una determinata istanza di un concetto di business per semplificarne nella comprensione potremmo dire che un domain identifier è rappresentato dalla coppia formata dal nome del concetto di business e dall'identificativo dell'istanza specifica per esempio il corso 7D9 eccetera eccetera oppure lo studente ABNorman la seconda parte della query è costituita dalla collection delle tipologie di eventi di mio interesse combinando il filtro sull'istanza di dominio e quello sulla tipologia di eventi il blocco decisionale è in grado di ottenere molto puntualmente molto precisamente lo stream di eventi necessario a ricostruire il modello necessario per prendere la propria decisione rispetto alla soluzione dell'aggregato il primo vantaggio di questo approccio è il minor spreco di risorse in termini di banda per trasmettere eventi inutili ma anche di carico computazionale per ricostruire uno stato più ampio e complesso di quello strettamente necessario il secondo vantaggio è quello di non doversi preoccupare a priori della modellazione dell'aggregato il blocco decisionale conosce la logica di business ed è in grado di ricostruire il modello necessario per prendere quella singola decisione non è più strettamente necessario partire con una fase di modellazione up front per definire i confini degli aggregati un terzo vantaggio è dettato dal fatto che la query è dinamica e in quanto tale garantisce una maggiore flessibilità se domani per esempio ho necessito di un'informazione aggiuntiva potrebbe essere semplice quanto modificare la query magari includendo un nuovo tipo di evento andiamo ora ad analizzare invece cosa accade in fase di scrittura qualora due blocchi decisionali si trovino a operare contemporaneamente ipotizziamo di ricevere nello stesso istante il comando per aggiornare la capacity di un corso e quello per aggiornare il titolo dello stesso corso in questo caso il nostro istinto ci dice immediatamente che non ci potrà essere alcun conflitto fra queste due operazioni perché esse vanno ad agire su due set di dati scorrelati fra loro i due blocchi decisionali saranno sempre in grado di caricare simultaneamente i rispettivi stream di eventi di ricostruire i propri rispettivi modelli di stato e infine di pubblicare i propri rispettivi eventi diverso al caso in cui ricevessimo nello stesso istante una richiesta di iscrizione di uno studente a un corso e il comando di aggiornamento della capacity dello stesso corso questa volta è possibile che ci siano delle collisioni tra i dati che le due richieste vanno a utilizzare e a modificare ammettiamo infatti che entrambi i blocchi invochino una query in grado di restituire lo stream di questi due eventi per ricostruire i rispettivi modelli supponiamo che il primo blocco in grado di emettere un evento sia quello relativo all'aggiornamento della capacity il secondo blocco è quello relativo all'iscrizione dello studente al corso ora in questo caso però potrebbe succedere che l'evento di aggiornamento della capacity emesso solo qualche millisecondo prima dell'evento di iscrizione potrebbe invalidare la scelta presa in merito all'iscrizione infatti l'ultimo evento di aggiornamento della capacity non era stato considerato nel momento in cui il primo handler ha ricostruito il proprio modello e come facciamo a gestire questa situazione ecco che vado a introdurre la seconda importante abilità che un event store dovrebbe fornire a fianco della più semplice operazione di append che riceve come parametro gli eventi da memorizzare voglio una nuova funzionalità l'append condizionale come funziona l'append condizionale è molto semplice oltre a fornire come parametro l'evento del quale voglio fare l'append devo fornire anche altri due parametri il primo rappresenta la query utilizzata per ricostruire il modello mentre l'ultimo rappresenta l'identificativo dell'ultimo evento che il blocco decisionale ha processato in fase di ricostruzione del modello a cosa servono questi due ultimi parametri servono a verificare che nel momento in cui eseguo l'append non esistano nuove informazioni che possano mettere in discussione le mie scelte ovvero che non esistano nuovi eventi corrispondenti a quella query successivi all'ultimo sul quale la mia decisione sia stata basata se l'identificativo dell'ultimo evento restituito dalla query non corrisponde all'identificativo ricevuto dal blocco decisionale ricevuto come ultimo parametro significa che la decisione presa è potenzialmente errata perché è basata sui dati su dei dati non aggiornati potrei aver deciso di accettare l'iscrizione di uno studente quando in realtà un attimo prima la capacity del corso era stata ridotta al punto da impedire quella iscrizione in questo caso la pen viene rigettato in quanto la condizione non è verificata a questo punto il blocco può decidere di fallire o di ritentare caricando nuovamente il modello che questa volta sarà necessariamente più aggiornato del precedente in pratica la pen condizionale rappresenta la garanzia che un evento o un gruppo di eventi sia pubblicato nell'event store se e solo se l'event store non contiene nessun evento facente parte della query successivo all'ultimo che mi aspetto ovvero in altre parole che la garanzia questa è la garanzia che la decisione sia stata presa sulla base dei dati più aggiornati mettiamo a terra a questo punto ritornando all'esempio pratico il primo blocco di invocare la pen condizionale è il command handler per l'aggiornamento della capacity poiché esso ha caricato come ultimo evento l'evento numero 592 l'event store verifica che al momento della pen non esistano eventi successivi al 592 che avrebbero fatto parte della query e poiché non esistono la pen viene accettato quando però il command handler per l'iscrizione dello studente al corso prova a pubblicare il suo evento invoca a sua volta la pen condizionale anch'esso ha caricato come ultimo evento l'evento 592 l'event store verifica che al momento della pubblicazione dell'evento esiste un evento il 593 successivo al 592 che si fa parte dello stream della query e in questo caso l'evento rigetta l'append il quarto vantaggio che otteniamo nei confronti dell'aggregato è una minor contention che attenzione questa volta non comporta alcuna contropartita in termini di complessità il principio è molto semplice lo stream minimale costituito dai soli eventi necessari a garantire un determinato la gestione di un determinato comando o di un determinato evento scatenante essendo appunto minimale ha meno probabilità di collidere con la pubblicazione degli altri eventi limitiamo la contention in pratica riducendo il boundary di consistenza al singolo stream è già un ottimo risultato ma non fermiamoci qua manca l'ultimo strappo per arrivare in vetta resistete sicuramente ricorderete che nella modellazione dell'aggregato studente e dell'aggregato corso abbiamo definito alcuni eventi che pur sembrando dei duplicati risultavano necessari al fine della validazione dei rispettivi invarianti del corso e dello studente durante il processo di iscrizione se abbiamo provato una strana sensazione durante la fase di event storming il sentimento non migliora nemmeno dopo quando andando a leggere il contenuto dell'event store per ogni iscrizione andiamo a ritrovare due eventi ravvicinati con l'esatto medesimo contenuto che riferiscono unicamente perché originati da uno o l'altro aggregato qui rappresentati dai colori rosso e verde come possiamo liberarcene beh nella realtà l'evento di dominio è uno solo la sua duplicazione è funzionale all'esistenza di due aggregati ma se ci liberiamo dell'aggregato allora come diretta conseguenza possiamo liberarci anche di questa artificiosa duplicazione di eventi infatti se ci liberiamo dell'aggregato allora un evento non appartiene più a un aggregato un evento è solo un fatto puro possiamo sostituire l'appartenenza di un evento ad un aggregato con un'operazione di taggatura una sorta di etichettatura esterna che non fa più parte dell'essenza stessa dell'evento questi due eventi epurati dall'appartenenza all'aggregato ora sì che sono veramente identici non ha più senso mantenerli separati possiamo decidere di unificarli ottenendo un unico evento di business caratterizzato da due tag sostituire l'appartenenza di un evento a uno e un singolo aggregato con un'operazione di semplice taggatura potenzialmente multipla ci garantisce anche un altro vantaggio eccezionale lo scopriamo analizzando come si comporta ora il nostro sistema nella gestione di un comando per l'iscrizione di uno studente ad un corso il command handler il nostro blocco decisionale sa di quali dati ha bisogno per prendere una decisione conosce gli invarianti da verificare per poter pubblicare l'evento dell'iscrizione dello studente al corso ora può decidere di avvalersi della flessibilità della query per recuperare in un unico stream sia i dati relativi allo studente che quelli relativi al corso in questo modo il command handler è in grado di ricostruire il modello necessario a valutare in un unico momento che l'iscrizione non violi né il numero massimo di studenti per corso né il numero massimo di corsi per studente qualora entrambe le regole vengano validate sarà possibile pubblicare un unico evento relazionato però a entrambi gli elementi di business distanza del corso e l'istanza dello studente l'event store non dovrà dunque essere unicamente in grado di appendere nuovi eventi ma nuovi domain event dove un domain event non è altro che la coppia formata dall'evento oppure dalla collection dei domain identifiers adesso abbinati nel mio esempio il domain identifiers corrisponde a una coppia chiave valore dove la chiave rappresenta il concetto di dominio e il valore l'identificativo dell'istanza ma in realtà questo è soltanto un esempio infatti il domain identifiers potrebbe essere qualsiasi cosa a patto che il suo valore sia univoco all'interno del bounded context i domain identifiers sono abbinati al singolo evento due eventi pubblicati nella medesima transazione potrebbero assolutamente essere associati a domain identifiers differenti ad esempio nel caso in cui una volta iscritto uno studente al corso il corso raggiungesse la sua capacità massima posso voler pubblicare nella medesima transazione l'evento corso al completo l'evento che rappresenta la sottoscrizione dello studente sarà associato a entrambi i domain identifiers per il corso e per lo studente mentre l'evento course fully booked sarà abbinato unicamente al domain identifiers del corso tradotto in pseudocodice ecco come risulterebbe l'invocazione dell'append in questo esempio gli eventi sono due student subscribe to course abbinato a due domain identifiers il corso e lo studente e course fully booked abbinato solamente al corso la query è quella che è stata fatta per ricostruire il modello necessario a validare il comando e infine l'assivente è l'identificativo dell'ultimo evento utilizzato per ricostruire il modello se la query al momento dell'append dovesse ritornare un ultimo evento diverso da quello atteso beh allora significherebbe che la decisione è stata presa sulla base di un modello incompleto e in quel caso l'append sarebbe rigettato secondo l'approccio che vorrei proporre gli eventi sono puri non appartengono più a un aggregato il che significa che possiamo creare una mappatura più aderente a quello che accade nella realtà un evento puro rappresenta infatti semplicemente un fatto un accadimento importante a livello di business un evento può essere abbinato a più istanze di concetti di business come nel nostro esempio il corso e lo studente e questa mappatura avviene tramite i domain identifiers i vantaggi di questo approccio sono molteplici poiché un evento non ha un proprietario è molto più semplice prendere decisioni di business che coinvolgano più di un singolo concetto di dominio la decisione è presa in un unico momento in un unico posto così facendo ogni qualvolta abbiamo una decisione che coinvolge più di un concetto di business non dobbiamo necessariamente affidarci a un complesso meccanismo di sincronizzazione ma possiamo decidere di operare una decisione tramite un singolo blocco in grado di recuperare i dati di contesto relativi a tutti i concetti coinvolti e questo comporta meno sincronizzazione e meno complessità ma ovviamente ha senso se e solo se ci troviamo all'interno dello stesso bounded context per cui l'ultimo vantaggio che questa soluzione offre è appunto relativo alla flessibilità perché grazie all'event sourcing posso ricostruire ogni modello necessario per prendere una determinata scelta se ho sbagliato la modellazione iniziale oppure se il mio business cambia beh posso semplicemente modificare la query e caricare un modello differente se anche avessi sbagliato ad abbinare uno più eventi a un determinato domain identifiers anche qua le cose sarebbero semplici perché basterebbe aggiungere o rimuovere i domain identifiers abbinati agli eventi nell'eva store l'aggregato è finalmente morto e con esso tutti gli aspetti negativi che erano adesso associati il nuovo approccio che mette al centro il blocco decisionale che reagisce a un determinato stimolo si integra in maniera naturale nello storytelling focalizzandosi sul comportamento piuttosto che sul modello riduce la contention riduce la complessità e semplifica il refactoring l'aggregato è morto ma attenzione questo non significa affatto dover organizzare il sistema in modo da avere centinaia di command handler completamente scorrelati fra loro assolutamente no classerizzare i comandi in gruppi logici delegando la loro gestione a uno stesso modello rimane un approccio di programmazione assolutamente corretto la differenza sta nel fatto che prima per definizione stessa di aggregato questi modelli dovevano necessariamente essere isolati gli uni dagli altri uccidere l'aggregato significa ammettere la possibilità di contaminazioni fra questi modelli senza però rinunciare alla consistenza un approccio meno dogmatico che comunque non deve prescindere dalle buone pratiche di programmazione ma che grazie alla maggiore flessibilità permette al miglior design di poter emergere col tempo il fatto che esista la possibilità di creare queste intersezioni tra i modelli non significa che essa vada sfruttata necessariamente in ogni situazione esisteranno migliaia di casi in cui questo non è necessario e come sempre non esiste una sola risposta una sola verità le scelte vanno sempre fatte con scusate con pragmatismo e buon senso ma era comunque l'ultima slide e vi ringrazio per la vostra attenzione grazie mille Sara bellissimo deep dive in questa insomma modo diverso di intendere il ruolo dell'aggregato so che c'è una possibile bonus track che ci aspetta ma nel frattempo colgo l'occasione intanto per prendere un attimo per riflettere su quello che abbiamo ascoltato e chiedervi se avete delle domande e nel frattempo vediamo un po' se c'è qualche dubbio osservazione domande assolutamente e nel frattempo ti chiederei se voi complimenti grazie grazie Alessandro evviva mi raccomando se avete domande appunto o anche semplici osservazioni se pensate che sia un approccio insomma valido o se ci avete mai provato o pensato se anche quello aggregato sempre ha dato un po' di problemi insomma anche solo sapere le vostre storie sarà molto interessante abbiamo per esempio Damiano grazie mille approccio molto interessante nella nostra quotidianità abbiamo spesso incontrato questi mostri soprattutto la complessità devo dire che in realtà Damiano mi dà un assimo perché è stato proprio vabbè l'aggregato non mi ha diciamo mai convinto fin dall'inizio nel senso che trovavo comunque della frizione a volte eccessiva in alcune situazioni ma proprio un'ora di consulenza con Damiano e i ragazzi di 2080 è stato in realtà quello che mi ha dato proprio lo stimolo per trovare una soluzione che potesse essere più flessibile ad alcune di queste situazioni in cui esistono degli invarianti a cavallo fra gli aggregati per cui devo ringraziare anche loro per avermi dato lo stimolo proprio per ragionare su questa problematica ancora di più e poi a Kandinsky in realtà durante una sessione agevolata da Alberto proprio capito che non era non era l'unica a vivere questo conflitto ma che l'aggregato rappresentava sicuramente un problema per tantissimi ottimo non l'avevo visto scusate me l'ho perso un'osservazione l'unica cosa che va definito a front sono i domain identified che potenzialmente potranno servire per le query ma comunque come dicevi si possono sempre raggiungere ed è più facile esatto esattamente dalla chat grazie mille l'idea è proprio questa in generale dovrebbe essere abbastanza naturale una volta che uno identifica un evento sapere a quali concetti di business questo evento poi è relativo per cui dovrebbe essere un processo abbastanza naturale ma è corretto dire che qualora proprio dovessi dimenticarmi di mappare qualcosa posso comunque decidere di mapparlo successivamente ottimo abbiamo anche qualche domanda in inglese quindi se sei d'accordo farei lo switch così ok marius due to blocking other changes not related to all events by verifying eventless id di i can agree but that is exactly the point of using an event store for this purpose in the sense that the event store should provide a performant way to perform this operation this conditional append and to perform this free query reading so it's a problem that should be resolved in implementation of the event store and the event store in my opinion should be focused on solving exactly this kind of specific problem it's not a generic purpose database it's something that it is dedicated to that and in my opinion it it is a problem that is related to the implementation of a event store thanks I hope that I answered your question I don't know in case Marius let us know we have another one in English by Mark really good idea question what is the cost of the conditional append yes so the cost of the conditional append as I answered for Marius depends on the implementation I work for a company that is building a platform for routing messages in a distributed environment and for saving your events into an event store so it acts as a routing platform as well as an event store so of course we have several ideas to solve this problem in a performant way so yes it may be expensive but depends on implementation a dedicated solution should provide a faster way to do this operation cool okay the chat is open folks if you have any more questions please are tanti tanti concetti spero che l'esempio abbia un po' dato modo di assorbire l'idea però capisco che sia difficile sui miei piedi sì per fortuna il talk rimane online per tutti lo ripeto se conoscete il nostro canale così come gli altri canali di youtube poi avete modo di riguardarlo another question from marco ciao marco nice talk do we already have an event store that enables us to test it not yet but we are working it as soon as we have something ready of course i will publish something thanks marco ok do you want to switch to the bonus track maybe we do some more no no captions for this but no captions for this but it was kind of unplanned and by the way excellent work sarah and your helpers in doing this great okay dunque posso procedere dicendo che non a caso le nuove API che ho introdotto sono pienamente compatibili con l'approccio da aggregati perché in realtà ci saranno tantissime situazioni in cui l'approccio ad aggregati è valido validissimo e rimane la scelta principale per cui è sufficiente utilizzare per lo stream degli eventi un solo domain identifiers che corrisponde all'aggregate identifier tutti gli eventi che sono prodotti da un aggregato saranno associati a uno o un solo domain identifiers che corrisponde appunto all'aggregate identifier di nuovo per cui il last event non è nient'altro che l'ultimo evento ricevuto in fase di ricostruzione dell'aggregato questo per mostrare come queste API sono perfettamente compatibili anche con l'approccio d'aggregato la seconda bonus track invece era relativa agli snapshot perché visto che l'aggregato non esiste non esiste più lo snapshot questa volta è relativo non più all'aggregato ma nonostante lo snapshot in realtà sia in una qualche forma meno necessario perché riducendo gli stream gli eventi probabilmente avrò meno necessità di di dover usufruire di uno snapshot ma qualora dovessi usufruirne lo snapshot diventa semplicemente lo snapshot del modello utilizzato dal command handler è importante ricordare che anche se la query fosse la stessa rappresentata in questo caso dal colore io potrei avere due modelli differenti così come in realtà potrei avere due modelli identici per cui non non ha alcuna diciamo importanza più qual è il l'aggregato ma semplicemente sfrutterò il come meccanismo per salvare lo snapshot quello che è il modello del mio command handler che il mio command handler va a utilizzare per cui all'interno della query potrò passare non soltanto i domain identifiers non soltanto i tipi di eventi che sono interessati a cui sono interessata ma anche lo snapshot identifier per cui quando dovrò ricostruire un modello basato su questo snapshot lo snapshot stesso questo ovviamente è opzionale lo snapshot stesso conterrà l'identificativo dell'ultimo la sequenza dell'ultimo evento che è contenuto all'interno dello snapshot un payload dello snapshot e l'identificativo per recuperare lo snapshot per cui posso semplicemente salvare uno snapshot in un key value store e in questo modo posso abbinare il mio snapshot non più all'aggregato ma al modello utilizzato dal command handler per una determinata operazione e direi che ho finito con le due bonus track e con questo c'è tutto direi grazie mille Sara talk veramente interessante era appunto prima volta che lo sentiamo in italiano se non sbaglio tu l'hai presentato la settimana scorsa in azienda ma prima volta che viene dato in pubblico esatto corretto grazie dell'anteprima e ripeto grazie del lavoro incredibile che hai fatto con le caption abbiamo visto diversi ospiti anche stranieri sono molto contenta che la cosa abbia funzionato vuol dire che hanno funzionato ne parlavamo prima offline andiamo un po' nella parte più diciamo di cazzeggio com'è nata l'idea del kill bill kill agreg comunque un tema bello interessante è semplicemente nato dal fatto che la prima volta che ho presentato quest'idea a qualcuno ho esordito dicendo I want to kill the aggregate e da lì è partita un po' questo gioco con Kill Bill e ovviamente io sono una burlona decido di continuare su questa mi hai fatto bene vedo già il come si dice il brand che nasce esatto esatto spero non mi facciano caso a Kill Bill esatto testa bassa che un attimo esatto allora abbiamo una domanda da Angelo in ai supplementari ciao Angelo grazie mille per vedere se ho capito così potremmo avere così potremmo avere un modello per ogni combinazione di concetti di business appiccicati tra loro ma allora diciamo che nella maggior parte delle situazioni secondo me sarà comunque naturale che esistano dei concetti di business che rappresentano un insieme di regole per cui secondo me l'approccio di aggregati sarà naturalmente applicabile in tantissimi contesti ma in tutti quei contesti in cui in realtà l'invariante valica i limiti di un aggregato allora si potrebbe utilizzare tramite questo questo meccanismo una query in grado di raccogliere le informazioni che fanno che afferiscono a più concetti di business in un unico modello e quel modello lì è quello utilizzato per valutare gli invarianti tutti contemporaneamente per evitare di fare i miller in palli tra i vari aggregati obbligandoci anche a creare questi sgradevoli dico io per me sono sgradevoli queste sgradevoli versioni dello stesso evento di business che nella realtà è un fatto unico ma che viene duplicato in più versioni giusto giusto per esistere all'interno degli aggregati e per permettere la validazione delle regole di business degli aggregati specifici in questo modo si eviderebbe questa cosa e effettivamente leggendo il contenuto di un event store ogni esperto di dominio dovrebbe completamente ritrovarsi in quello che legge non dovrebbero esserci eventi tecnici necessari a dare un senso all'aggregato per cui deve diventare proprio la descrizione di quello che è accaduto grazie mille Sara Angelo se speriamo di aver risposto altrimenti siamo ancora qui per un po' per fare i saluti che dire Sara quindi prossimi impegni ora questo talk lo vedremo hai fatto la si può dire hai applicato per una conferenza che si terrà in Europa ho applicato spero vivamente ho applicato diciamo tutte le tre principali conferenze sull'argomento io sono convinta che che la cosa possa che questa idea possa veramente rappresentare una una sorta di rivoluzione non è un'idea che posso dire che rompe in maniera netta con l'aggregato ovviamente il titolo poi è un po' provocatorio e ciò ciò anche giocato un po' sopra su questa cosa però in realtà dà la possibilità di evitare secondo me di affrontare immediatamente quando uno comincia a studiare questa architettura quando uno comincia a studiare il domain driven design incontra subito il pattern dell'aggregato e per tanti versi può essere pesante ecco da affrontare al momento zero ecco con questo approccio possiamo evolvere più facilmente possiamo essere più flessibili possiamo permetterci qualche errore in più all'inizio possiamo capire meglio quando chiaramente è difficile comprendere quali siano i limiti dei nostri aggregati nella fase iniziale possiamo comprendere meglio possiamo prendere una decisione e poi decidere di farla evolvere nel tempo ottimo ecco un altro vai Alessandro bellissimo allora grazie mille Alessandro quali sono state le reazioni di chi ha già valutato questo tuo approccio per il momento positive vediamo continuando è una cosa molto nuova però devo dire per il momento positive è qualcosa che stai portando avanti in autonomia scusa sicuramente l'hai detto in qualche momento o con qualche collega no allora il diciamo come come tanti hanno chiesto questa idea richiede come prerequisito un un universore in grado di supportare queste funzionalità per cui è notizia recente che insomma c'è in programma l'implementazione di tutte queste funzionalità all'interno del prodotto di Axon Server che sto sviluppando con Axonic che è questa società con cui collaboro che si occupa appunto di in realtà di produrre di produrre un ecosistema molto ampio di prodotti a supporto di queste architetture e nello specifico esiste un prodotto che appunto agisce da event store e all'interno di questo prodotto intendiamo introdurre queste funzionalità perfetto quindi occhi puntati su Sara aggiornamenti ed intorni ho lasciato il tuo profilo su twitter qui grazie qualsiasi feedback vi prego di mandarmelo io sono convinta che il potenziale dell'idea possa essere declinato in diverse modalità per cui mi piacerebbe sentire le vostre opinioni una volta che avete sedimentato e ragionato sull'idea ecco grazie mille a tutti a tutte thanks everyone buona buone feste per chi festeggia e ci vedremo per i prossimi talk se non ricordo male a inizio maggio ci prendiamo anche una piccola pausa e poi torniamo con small talk interviste meet up ed intorni grazie mille a tutti grazie Sara e alla prossima alla prossima ciao grazie ciao